Si tratta di uno studio pilota che è andato a valutare l'effetto della camminata veloce, quindi un esercizio fisico moderato, su alcuni particolari marcatori. Abbiamo quindi fatto un prelievo prima del ciclo di camminate e abbiamo ripetuto il prelievo alla fine del ciclo di camminate. Cosa siamo andati a vedere? Siamo andati a vedere alcune molecole di microRNA che sono dei modulatori di alcune funzioni cellulari specifiche. In questo caso abbiamo notato, abbiamo osservato che la camminata veloce riduce l'espressione di queste molecole. Queste molecole che sono in realtà dei mediatori di processi patologici come l'invecchiamento, come le malattie cronico-degenerative quali l'artrosi oppure l'osteoporosi o le malattie cardiovascolari. Quindi l'invecchiamento in generale. Ebbene, la camminata è riuscita a ridurre la produzione e l'espressione di queste molecole. Abbiamo poi utilizzato i sieri ricavati dai volontari che hanno partecipato allo studio e li abbiamo aggiunti come stimolo ad alcune popolazioni cellulari che sono le mesenchimali staminali, cioè i precursori delle cellule cartilagine, ad esempio. E abbiamo visto che proprio i sieri erano in grado di stimolare la proliferazione di queste cellule. Quindi, oltre a essere un'attività che riduce potenzialmente i meccanismi nocivi che sono collegati all'invecchiamento, è anche in grado di preservare, di promuovere la crescita delle componenti fisiologiche del nostro organismo, quali la cartilagine. Questo studio ci porta veramente a valutare l'espressione dell'impatto fra attività fisica e espressioni igieniche, diremo fra virgolette, per cui avrà una ripercussione sicuramente su anche l'aumento delle sedute e dare la maggior possibilità ai dipendenti di aderire a queste attività fisiche dolci che permettono anche loro di avere sia il benessere biologico ma anche a livello generale. Per cui, già come è stato anche sottolineato dalla Direzione Sanitaria, si partirà con un secondo gruppo di camminatori veloci a Borgo Trento, cosa che non è mai stata fatta prima, per cui già i primi giorni di ottobre partiranno in simultanea i due gruppi. Questo faciliterà sicuramente il benessere anche alla ricerca della socializzazione e anche della prevenzione a livello delle cartilagini e a livello delle patologie croniche.